Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Quest'anno in IndyCar abbiamo un problema, perché purtroppo la serie americana ha copiato l'unica cosa che non avrebbe dovuto dalla Formula 1, ovvero il fatto di avere sostanzialmente già scoperto chi sarà il campione della serie alla fine dell'anno. Infatti, mentre nella stagione scorso siamo arrivati all'ultima gara Laguna Seca con sei piloti che erano in lotta matematicamente ancora per vincere il titolo, quest'anno Alex Palou sta distruggendo completamente la concorrenza, ha vinto a mido aio domenica la terza gara consecutiva, la quarta nelle ultime cinque e da maggio, che di fatto non sbaglia più un colpo, ha perso la 500 miglia solo perché Rinus VK, perdendo il controllo della macchina gli ha sbattuto addosso nei box, qui ha vinto e vinci tra l'altro con distacchi abissali nei confronti dei compagni degli avversari. Peraltro Palou bisogna vedere che è entrato in questi anni di Formula Indy con numeri che lo avvicinano a Mario Andretti o a J. Foy, stiamo parlando veramente quindi della possibilità che possa diventare un'eccellenza assoluta in questa categoria, anche se credo che alla fine andrà a cercare di far valere l'opzione Formula 1 che sembrava lo scorso anno essersi già materializzata quando avrebbe dovuto lasciare il team di Chip Ganassi. Team di Chip Ganassi è comunque anche un'altra delle sicure ragioni per le quali Alex Palou sta dominando così tanto, perché infatti in testa della classifica abbiamo nelle prime quattro posizioni tre piloti del team Ganassi che ha quattro macchine che corrono, la quarta non c'è semplicemente perché se la dividono Armstrong e Takumasato altrimenti probabilmente avremo anche la quarta macchina nelle prime posizioni della classifica. Il problema di questo momento della categoria è il fatto che solo Palou ha continuità a questo livello, l'unico altro pilota che ha una reale continuità è Rossi, Alexander Rossi che nella sua prima stagione con l'Arrows non sta con l'Arrows McLaren, non sta ottenendo dei risultati diciamo di primissimo piano ma è molto solido, arriva sempre nella top ten e infatti nei primi dieci anche nella classifica del campionato però gli manca forse ancora quella zampata per poter essere più competitivo anche per cercare di vincere qualche gara. Però quello che dicevo invece Alex Palou è l'unico pilota che ogni settimana porta a casa sempre il massimo risultato. Dietro molti piloti hanno una buona gara, poi hanno una negativa, New Garden che ha vinto la 500 miglia stavolta non è entrato neanche nei primi dieci, Ericsson che era secondo in classifica e che si vocifera che possano avere dei problemi anche per il rinnovo del contratto con il team di Cipri Ganassi, stavolta ha buttato tutto a mare dopo una qualifica comunque che lo vedeva partire piuttosto indietro perché è nato a fare un incidente subito nelle prime curve con Rosenquist. Incidente con Rosenquist che ha dimostrato ancora una volta la grande solidità di queste macchine, l'aeroscreen davanti con la specie di cupola che protegge il pilota, in questo caso Ericsson gli è passato sostanzialmente con la gomma sopra e infatti è rimasta un'ampia traccia sporca proprio della gomma che si è appoggiata sul vetro. Veramente la IndyCar ha fatto dei passi da gigante e lo testimonia anche l'incredibile e tremendo incidente che ha avuto Simon Pagenot nelle prove, è nato di vederlo se non avete avuto ancora occasione, un cappottamento continuo e poi si va ad appoggiare contro le barriere, Pagenot che poi per fortuna non ha avuto conseguenze gravi da questo incidente, non ha corso poi la domenica sostituito da Conor Daly che ha dimostrato una volta di più di essere un pilota di grande solidità e che meriterebbe sicuramente di avere un volante per la prossima stagione. Ora Palou ha più di 100 punti di vantaggio sul secondo in classifica che in questo momento è il grande veterano sei volte campione della serie Scott Dixon, il neozelandese che anche stavolta con grande intelligenza è riuscito a portare a casa un podio, quindi Chip Ganassi prima e seconde al termine della gara, gara che ha visto due protagonisti diversi perché invece quello che diciamo è un peccato è il fatto che le gare in questo momento sappiamo già chi le vince, ovvero Alex Palou, però la bella notizia è che le gare sono sempre spettacolari, sono sempre divertenti, sono sempre piene di sorpassi e soprattutto hanno sempre protagonisti diversi. In questo caso la prima fila infatti era composta da Colton Herta, figlio d'arte, e da Graham Rahal, figlio d'arte, e infatti è bellissima l'immagine che la NBC ha mostrato prima della partenza di un po' di una prima fila degli anni 90 dove c'erano i papà, Brian Herta e Bobby Real che erano in una prima fila a Long Beach se non sbaglio. In questo caso tutti e due i piloti sono stati i protagonisti nella prima metà della gara, nelle prime posizioni della classifica, poi però Real ha avuto qualche problema nei cambi box, nei cambi, nei numeri dei due pit stop che ci sono stati in una gara che ha avuto una sola bandiera gialla, quella provocata dal contatto tra Ericsson e Rosenquist ad inizio, poi abbiamo avuto 77 giri, 75 dopo la ripartenza senza più fermarci. L'altra cosa, quindi Real ha perso tempo in box e alla fine si è piazzato comunque nei 10, però un po' più indietro rispetto a quello che avrebbe potuto. Herta invece ha perso ancora l'opportunità di vincere, Herta è un pilota di grandissimo talento, gli sta sempre mancando quel qualcosa in più però per portare a casa dei risultati migliori, è stato bravo, è stato avanti per tutta la prima metà della gara, poi però quando già nel primo stint, nel primo turno dei cambi gomma di pit stop aveva già perso le prime posizioni perché Paloo era stato più bravo e il team Ganassi era stato più bravo a metterlo in una posizione migliore, poi però invece Colton ha fatto un errore per conto suo quando ha perso il controllo della vettura poco prima dell'ingresso in box, quindi è entrato all'oricità troppo alta, ha preso un track through per penalità e questo l'ha portato addirittura alla fine fuori dei 10. Ultimo elemento, due elementi ancora da dire di questa gara, tre anzi, il primo Pato Ward, lo spettacolare pilota messicano che stava andando benissimo nelle prove, poi ha fatto un errore, si è girato, ha provocato la bandiera rossa, tempi cancellati, è partito dal 25esimo posto, uno dei piazzamenti penso peggiori che abbia mai fatto nella sua carriera, con una tattica diversa molto aggressiva, è stato competitivo, ha finito nella top 10, è un pilota che inizio stagione è arrivato tante volte secondo, non è riuscito ancora a vincere, è uno dei piloti sicuramente più divertenti, più spettacolari, più futuribili della categoria, ha fatto molto divertire, 20 sorpassi per lui, 20 nel corso della gara, bravo, però anche per lui manca ancora l'acuto della vittoria. Altri due piloti dei quali parlare, Roman Grosjean che per fortuna ha interrotto il suo tour turistico dei prati e dell'erba dei vari circuiti americani perché stavolta è riuscito a rimanere in pista, però è arrivato anche stavolta lontano dai primi 10 e poi bisogna parlare di Benjamin Pedersen, il pilota danese, americano danese, ha la sua prima stagione un rookie, grande protagonista nella IndyCar giovanile diciamo, che però si è reso protagonista di azioni piuttosto strane perché era l'ultimo dei piloti a giri pieni, ha avuto dietro Palù e ha combattuto per la posizione nel non farsi superare da Palù come se stesse combattendo per vincere la gara. Questo gli è valso anche molte contestazioni, se andate a vedere anche la sua pagina Instagram, la gente che ha commentato la sua corsa lo insulta o comunque contesta questa modalità di correre, sono un po' perpresso da questo punto di vista perché va bene che per quelle che sono le regole americane è fondamentale restare sempre nel giro del primo della classe, però quando sei così lontano, peraltro con un buon passo perché non è che l'ha rallentato andando al replay, lo teneva dietro ma soprattutto è stato incredibile quando Palù ha cercato di superarlo e lui lo chiudeva esattamente come se stessero lottando per la posizione. Resta che la IndyCar è il più bello spettacolo del motorsport a mio avviso, una categoria fantastica, grazie per chi mi segue, grazie per darmi la possibilità di parlare con qualcuno, di riuscire a condividere anche qualche pensiero su questa serie così bella, continuate a scrivermi, continuate a seguire questo bellissimo campionato, iscrivetevi al canale, prossima gara a Toronto, siamo in un cittadino, vediamo se vince ancora Palù che per ora solo negli ovali non è riuscito a vincere, quindi ho un po' tutto da vedere se riuscirà a portare a casa quello che sarebbe il quarto successo consecutivo. Dietro speriamo che tutti gli altri, soprattutto New Garden, Dixon, Ericsson, i più vicini in classifica, riescono a fare invece un buttino importante per tenere aperta anche la lotta per il titolo, ma ripeto la cosa bella è che tutte le gare sono comunque per fortuna sempre spettacolari. Iscrivetevi al canale, vi aspetto, ciao a tutti, viva la IndyCar e un bacio da Vox.